ragazzoli anche Manolo Gabbiadini positivo al tampone auguri di pronta guarigione in bocca al lupo anche a lui non sappiamo ancora nulla sulle condizioni del giocatore ma quello che c'è da che c'è da dire, quello che mi viene da dire che da qui a ore, da qui a giorni di queste notizie qua ne saremo tempestati ecco perché perché ormai sono sono inevitabili, sono inevitabili sono inevitabili, ma la cosa goliardica in tutto ciò è che la Serie A si è fermata, incolpevole ritardo, incolpevole ritardo giocatori contagiati, siamo già a due ancora, ancora per il momento, ok la Liga si è fermata in ritardo, si è fermata addirittura l'NBA ma la UEFA no la UEFA no ci pensa su fra una settimana si vedrà dice intanto mo giochiamo poi fra una settimana si vede roba roba che dalpino in confronti a questo sembra Gandhi sembra Gandhi sembra siamo guidati siamo pilotati dal Dio Denaro non c'è nulla da fare che schifo che schifezza in mano in mane sta schifezza mamma mia mamma 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 mia faccio leggere l'articolo tramite l'App One Football niente nessuna decisione questa attesa ha obiettivamente dell'incredibile più che dell'incredibile ha della scelleratezza direi perché qua stiamo parlando di scelleratezza l'attesa sospensione delle coppe europee non è avvenuta c'è anche il tweet l'UEFA ha invece comunicato la convocazione di una riunione per martedì prossimo intanto stasera si gioca l'Europa League quelle che possono giocare a porte aperte porte chiuse porte scorrevoli porte girevoli a doppia mandata tagliafuoco porte contro porte riporte ok va bene va bene una scelta obiettivamente tartiva scellerata rito no tartiva scellerata l'unico aggettivo è scellerata la riunione riguarderà anche i campionati nazionali ed euro 2020 non c'è da far niente più non c'è da far niente c'è da chiudere botteghe inutile inutile provare ancora a guadagnarci su provare a salvare il salvabile non c'è nulla da salvare non c'è nulla da salvare ve ne renderete conto ve ne renderete ve ne renderete conto anche se purtroppo a pagarne le spese poi non è che sono i capocchioni questo questo è quello che più di tutto più di tutto mi fa mi fa inasprire mi fa mi fa accapponare la pelle niente una situazione assurda siamo ufficialmente arrivati proprio alla alla follia ogni altro commento sarebbe sarebbe superfluo perché questa è follia follia ma non quella follia che alcune volte può anche spingerti verso il meglio no quella follia mixata con la cattiveria delle persone che badano soltanto ai soldi e in tutto ciò mi tornano alla mente le parole di Zhang del mio presidente di cui sono orgogliosissimo che aveva subito anche scellerate e torno a questo aggettivo scellerate critiche ma ad oggi quanto mai profetico fu quanto mai profetico fu il nostro Steven e questo è la salute prima prima di ogni cosa prima di questi benedetti soldi prima prima e questo è il discorso ma non è ragazzi ma non è una questione di salvaguardare i calciatori anche ovviamente in quanto esseri umani pure loro è perché ricordiamolo sempre ma la questione è cercare di eliminare il problema di eliminare il problema perché sì i calciatori sono comunque forti stanno sicuramente hanno da un punto di vista fisico una marcia in più ok ma a parte che se hanno altre patologie è un casino lo stesso ma ripeto poi sono esseri umani stanno a contatto con altre persone e il virus si popata quello che c'è da fare è eliminare la propagazione del virus ma finché ci saranno questi eventi che poi come abbiamo visto nelle partite scorse anche ieri fanno sì che accalcano le persone in massa perché c'è ignoranza di fondo e scetticismo e poi il problema non lo risolvi il problema non lo risolvi questo questo è il discorso va beh un grande abbraccio attendiamo come dico sempre sviluppi un grande abbraccio da nero vediamo fra una settimana vedremo la UEFA forse se riterrà opportuno squadre in quarantena giocatori contagiati ma forse forse fra una settimana forse se ne può riparare ma ad oggi no ma stiamo spiegando ad oggi si deve assolutamente giocare mi sembra doveroso e giusto un grande abbraccio grazie a tutti Grazie.